Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per il calcio di Serie D, nuovo programma dei recuperi per il Girone F, pronta a tornare in campo anche l'Olimpia agnonese. Nelle prossime ore i tamponi di controllo. Turno interlocutorio in vetta alla classifica del Girone F, due pareggi per le battistrada Campobasso e Notaresco. Siamo nella parte finale del campionato, ogni gara comporta delle difficoltà. Certo, il turno andato in scena domenica era sulla carta Pro Campobasso. I fatti hanno dimostrato i pronostici. Il Notaresco ha avuto i suoi grossi grattacapi contro l'FC Matese, tanto da riuscire ad evitare la sconfitta solo in zona Cesarini. Al contrario, il Campobasso non è riuscito a portare a casa l'intera posta in palio contro l'Avastese. Ribadendo il concetto espresso all'inizio, senza dubbio la vittoria era la portata anche alla luce degli oltre 20 giorni di stop dell'Avastese tornata in campo mercoledì scorso nel recupero perso all'Aragona contro l'FC Matese. Lupi imbrigliati dalla densità messa in campo dalla squadra di Fulvio D'Adderio. Poche le chance per pungere con l'unica vera occasione arrivata nel secondo tempo con il salvataggio miracoloso di Bocca Nera sul tiro ravvicinato di Esposito. La costante del giro di ritorno è che il Campobasso fa fatica a realizzare contro le squadre chiuse in difesa. Una difesa anche ad oltranza, come visto in più occasioni dalle avversarie degli uomini di Cudini che in particolar modo nella seconda frazione di gioco hanno rinunciato anche alle ripartenze. Ci riferiamo alle gare contro Castelfidardo, Aprile e Recanatese vinte 1-0, ai pareggi a Reti Bianche contro Giulianova, Montegiorgio, Matese e Bastese. Chiaramente il discorso cambia contro le squadre che hanno giocato per vincere contro i Lupi con gare fatte a viso aperto. In queste partite non a caso Esposito e compagni hanno annichilito gli avversari. Vedi Notaresco, vedi Castelnuovo Vomano, vedi anche Cinzia al Balonga dove nonostante la sconfitta l'elemento fortuna è stato senza dubbio decisivo. Ebbene, cosa è vincere da questi dati? Due considerazioni. La prima è che la difesa è davvero di ferro, la fase difensiva è precisa e puntuale. La seconda testimonia che il Campobasso deve migliorare assolutamente nelle gare sporche. Vincere anche con episodi senza merito, ma vincere. Per vincere così bisogna essere disposti anche a modificare qualcosa nel modo di giocare o nell'atteggiamento tattico anche a gara in corso. Fermo restando che i Lupi sono primi dall'inizio, che sono il miglior attacco, la miglior difesa e che giocano sempre un calcio di ottima qualità. Un percorso di assoluto livello che deve trovare massima applicazione nella vittoria del torneo. Ora 15 giorni di stop. Ieri pomeriggio la LND ha portato alcune variazioni al programma dei recuperi del 21, 25 e 28 aprile. Dal nuovo programma infatti non si giocherà a mercoledì 28 aprile la sfida tra Campobasso e Pineto. Gli abruzzesi scenderanno in campo al Civitelle contro l'Olimpia agnonese proprio nel giorno di mercoledì prossimo. Piccola parentesi sull'Olimpia agnonese, la squadra Granata tornerà in campo esattamente domenica nel recupero in trasferta contro il Porto Sant'Elpidio. In merito alla lotta al vertice tra Campobasso e Notaresco, la LND è pronta a far giocare giustamente le due squadre in contemporanea per garantire massima regolarità alla lotta per la Lega Pro. Quindi con grande probabilità Campobasso-Pineto sarà giocata lo stesso giorno di Notaresco-Montegiorgio verosimilmente domenica 2 maggio, così come le gare Notaresco-Pineto e Vasto Girardi Campobasso, probabilmente in campo, mercoledì 5 maggio. Al Ferrante è arrivato il sedicesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Corrado Urbano. L'ultima sconfitta risaliva proprio alla sfida da andata giocata lo scorso 6 gennaio contro il Notaresco. Ancora un risultato di prestigio per l'FC Matese, capace di fermare le prime due della classe e risalire la classifica in modo incredibile. Quinto posto per i Biancoverdi, a meno uno dal Castelnuovo-Vomano e a meno tre dal Cinziar Balonga. Terzo posto ad un passo con la possibilità di salire sul podio già domani nella sfida di recupero contro il Pineto. Un peccato non aver chiuso sull'1-0 la gara con il Notaresco Matesini sempre concentrati, puniti da un pallone sporco recuperato in fase d'uscita. Poco male, domani si torna in campo, mister Urbano chiede ai suoi un ultimo sforzo prima di una lunga sosta con la prospettiva di riuscire a chiudere un girone intero senza sconfitte. Il campo basso non è andato oltre lo 0-0 contro la Vastese. Nel post-gara il commento del fluidificante Van Zan. Sicuramente dobbiamo essere più cinici sotto porta, dobbiamo riuscire a sfruttare di più le occasioni che abbiamo, creiamo tanto, magari oggi un po' meno del solito, però dobbiamo riuscire sicuramente a concretizzare di più. Poi sei con noi, soprattutto quando giochiamo in casa, le squadre vengono qui e la maggior parte si chiude, sta dietro, ci aspetta e quindi è anche difficile trovare gli spazi e di conseguenza è difficile anche creare occasioni. Ti ho detto, secondo me dobbiamo sicuramente essere magari più cattivi sotto porta e cercare di concretizzare magari quelle tre, quattro, cinque occasioni che abbiamo avuto, almeno muovere la rete. Ecco perché, anche perché mi riallaccio a quello che dicevi, non è stata una prestazione negativa, anzi avete trovato un avversario che si è chiuso, ha fatto una partita dal punto di vista temperamentale molto valida, quindi avete costruito meno del solito, quindi lo 0-0 può essere figlio di queste valutazioni. Sì, come ho detto, la maggior parte delle squadre vengono qua e si chiudono, ci lasciano pochi spazi. Loro hanno fatto sicuramente la loro partita, attenta, appunto ci hanno lasciato poco spazio. Però questo poi ci deve far capire anche che magari dobbiamo adeguarci di più alla partita, dobbiamo, come ho detto prima, concretizzare di più magari quelle poche occasioni che abbiamo e questo dobbiamo sfruttare al meglio. Il Castelnuovo Vomano, dopo le sconfitte contro Campobasso e Notaresco, è tornato a fare punti, pareggiando una gara difficile contro la Cinzia al Balonga. Perdeva 3-0, poi ha impattato 3-3. Al termine della gara il commento dei tecnici. Mister Di Fabio, reazione che dimostra quanto ci siamo sempre detti che questa squadra è viva? No, è stata una partita importantissima per noi perché stiamo vivendo un momento non felicissimo, capito? E in queste partite, in tante occasioni, gli episodi hanno fatto la differenza. Oggi, per quello che è successo in campo, poteva ammazzare anche un toro. Noi, nonostante tutte le difficoltà, tra errori nostri, errori arbitrali, un po' di tutto, ci siamo messi lì a crederci fino alla fine. Devo dire che questi ragazzi sono stati veramente fantastici, a dimostrazione di quello che penso io di loro. È un gruppo fantastico che non molla mai e che tornerà a brillare come ha fatto nella prima parte del campionato. Ha sempre detto che durante le vostre partite non vuole mai lamentarsi degli arbitri, ma il rigore su De Gidio nel primo tempo e sul capovolgimento di fronte è arrivato il gol della Cinzia. C'è da recriminare, è apparso netto. Sì, adesso mi dicono così che è netto, ma poi in questo momento paghiamo tutto, perché poi al di là che il fatto che non c'è stato il rigore siamo andati subito, abbiamo preso il gol perché magari siamo un attimo distratti per quella situazione lì. Quindi sono tutte situazioni che in questo momento noi paghiamo e non ci possiamo permettere. Poi siamo stati bravissimi a recuperare questa partita contro una squadra fortissima, secondo me la più bella che è venuta qui, che ha dimostrato tutto il suo valore, ci ha proprio, specialmente nei primi 20 minuti, mezz'ora, non ci ha fatto giocare, ci ha messo in difficoltà. È sempre difficile trovare una spiegazione a un risultato del genere per come si è incanalata la partita e per quello che i ragazzi hanno riuscito a fare per gran parte della gara, riuscendo ad avere un vantaggio di tre gol. Evidentemente ci siamo spenti per forza di cose perché se no a me nella mia vita non mi era mai capitata una cosa del genere e tutto serve, esperienza, perché evidentemente qualcosa, posso aver sbagliato anch'io, nel magari, io non sono uno che dà niente per scontato, può darsi che magari non sono stato bravo nelle sostituzioni a motivare e far capire l'importanza di questo risultato e che la partita non era finita, ecco, magari, sai, pensi sempre che i ragazzi siano allineati, invece in quel momento lì, evidentemente, qualcosa non è andata bene. Calcio a 5 di serie A2, questa sera con fischio d'inizio alle 19, il Cus Molise ospiterà alla Palestra Sturzo il giovinazzo per il recupero della tredicesima giornata di campionato con i Rosso-Blu che vincendo salirebbero a quota 36, tenendo così a distanza di sicurezza la Tombesi. Calcio d'eccellenza domenica al via il campionato, quello che resta del campionato, per meglio dire, la questione Boiano è rientrata e Domenichi Matesini saranno di scena al Cannarsa contro il Termoli. A proposito della ripresa, Domenichi è intervenuto durante Domenica Sport il presidente del comitato regionale. Allora, che cosa è successo nelle ultime ore? C'è stata questa bomba Boiano, la possiamo definire così? Ma io non direi la bomba, certamente c'è stata una comunicazione da parte del Boiano che almeno sempre voleva rinunciare a proseguire il campionato. Da un colloquio avuto con il direttore sportivo della società, Gianico, mi rappresentava il problema che c'erano problemi sul campo di Boiano, dove in questo momento praticamente, in questo momento, su Boiano c'è una situazione di Covid abbastanza accentuata. E allora si pensava che il comune non poteva dare la disponibilità del campo. Però ieri mattino ho avuto un incontro col sindaco, con l'assessore allo sport, un incontro abbastanza gradevole anche in prospettiva futura. e credo che la situazione sia stata risolta. Ho parlato di nuovo con il direttore sportivo, ho cercato di contattare anche il presidente della società, il signor Russo, e credo che la situazione sia rientrata. Intanto il campionato domenica parte, parte e entra avanti fino alla fine, perché sono stati fatti degli sforzi enormi. Devo ringraziare enormemente le società che hanno voluto mantenere fede al proseguio del campionato. Non è tanto per quanto riguarda, è importante anche il titolo e l'accesso alla Serie D, ma è importante anche dare un segnale, un segnale di ripartenza, di rinascita, per poter ripartire anche con una stagione nuova, 2021-2022, insomma con qualche pezzettino già fatto. Certamente. Quindi praticamente ci confermi che comunque domenica prossima si partirà con questo mini campionato che poi porterà alle semifinali e alla finale per determinare quale squadra poi accederà al campionato di Serie D il prossimo anno. Quindi possiamo dire che non si gioca dal 25 ottobre, quindi a distanza di sei mesi possiamo dire che si tornerà in campo domenica prossima. C'è stato un provvedimento firmato dal Presidente Gravina perché una volta che noi abbiamo fatto il format di continuazione di quello che era il cadentario iniziale di 11 squadre, per avere l'autorizzazione siamo andati in deroga come la Bruzza e come la Calabria a sette squadre. Ma non è il campionato domenica parte, poi eventualmente se c'è qualche assenza ci sarà partita persa per la squadra e credo purtroppo anche dei provvedimenti. Speriamo che questo non avvenga, sembra che la situazione sia rientrata. C'è tanta buona volontà anche da parte di altri dirigenti della società del Boiano, in particolare al mondo del Vice Presidente Spina, ma anche di altri, anche del Presidente Liberato Gentile che è impegnato in questa situazione. Credo che il problema sia risolto. Poi domani mattina avremo una verifica maggiore praticamente perché ci sono anche le designazioni arbitrari che già sono state fatte, praticamente è tutto pronto e ci teniamo molto e credo che ci tiene proprio il calcio a Movisano. Tu dicevi c'è anche questa decisione del Presidente del Consiglio di ritornare in qualche modo a vivere. E va nella stessa direzione, va nella direzione di cercare di fare qualche passo in avanti. Questo è l'obiettivo. Naturalmente al primo posto rimane la salute di tutti, bisogna rispettare il protocollo che attualmente mette in atto anche la Serie D. Sono passaggi importanti, però questo pezzetto praticamente di rinascita, di ripartenza, insomma, credo che poi è un bene comune di tutti e di tutti quelli che amano il calcio. Automobilismo Martina Iacampo ai nastri di partenza del 28esimo rally dell'Adriatico affiancata dal suo navigatore Fabiano Cipriani. Nel weekend la driver molisana sarà impegnata in una gara storica con la titolarità di campionato italiano su un fondo del tutto sconosciuto, vale a dire la terra. Debuto assoluto per lei in questa specialità. 64,71 km di prove speciali a bordo della sua Peugeot 208 del team FG Racing, griffata sempre dalla Diorio Spa, questa volta con il marchio Stappi. Basket femminile di Serie A, la molisana Magnolia Campobasso riparte da una under, la slovena Zalasrot. Il primo colpo di mercato. La molisana Magnolia Basket Campobasso è l'unica società della massima serie nazionale già proiettata sulla prossima stagione. La matricola molisana è stata brava a conquistare e conservare il nono posto, unico piazzamento che ha garantito la salvezza diretta. Mentre le altre formazioni sono impegnate nella post-season, il club rosso-blu ha messo a segno il primo colpo di mercato. In realtà si tratta di una conferma. La sedicenne slovena Zalasrot entrerà nei 17 anni il prossimo 15 maggio. Ha già esordito nella massima serie italiana la vigilia di Pasqua in occasione della trasferta a Ragusa. La giocatrice balcanica di 184 cm è un'ala in grado di giocare indifferentemente negli spot di 3 e 4. Il club rosso-blu con questa operazione ribadisce il suo progetto di diventare una società a punto di riferimento nel centro-sud per la crescita di nuovi prospetti. A proposito della post-season l'umana Rayer-Venezia ha chiuso il discorso semifinale play-off già in gara 2. Ieri ancora un successo per le Venete 92 a 69 contro Costa Masnaga. Una tra Bologna e Sesto San Giovanni sarà l'avversaria del Venezia. Ieri le Emiliane hanno sfruttato al meglio il fattore casa vincendo 69 a 57. Dopodomani ancora squadra in campo alla Segra-Feredo Arena per gara 3. Nell'altra semifinale c'è Schio che affronterà una tra Ragusa ed Empoli. Per la griglia play-out domani si torna in campo per gara 2 Broni-Dinamo-Sassari con le padrone di casa forti del successo dell'andata e pronte a chiudere il discorso salvezza e il battipaia dopo il successo tra le Muramiche domani sarà di scena a Lucca per entrambe palla 2 alle 18. Prima vittoria stagionale per la bocciofila Monforte-Campo Basso. Giuseppe Mignone ha vinto il trofeo Bocciotromo Comunale l'individuale regionale organizzato appunto dalla società Bocciotromo Comunale di Campo Basso. Secondo posto per l'atleta Valentino Grieco della società Padulese terzo posto per Michele Delia della società di casa quarto l'atleta dell'Avis Campo Basso Cristiano Paparella a seguire Giuseppe Ferrara Bocciofila Monforte Francesco Massimiano della Padulese settimo Giuliano D'Alessandro tesserato con la Morgione Ripalimosani sempre per la Bocciofila Monforte Luigi Massimo nono classificato. Poi ancora Stefano Pellicanò della società Madonna delle Grazie di Termoli e infine Mario Punzi della Folgore Cassino Nuoto lo scorso fine settimana le corsie della piscina del centro sportivo M2 hanno ospitato la categoria esordienti per il Molise Swim Cup buoni risultati per l'H2O Sport Un fine settimana intenso per gli esordienti dell'H2O Sport alle prese con la prima tappa della Molise Swim Cup gli atleti hanno confermato in basca l'ottimo stato di forma migliorando tutti i loro riscontri cronometrici nella categoria esordienti a Lorena Andrea Visan classe 2010 si aggiudicate 200 d'orso con il tempo di 2.51 e 2 doppio podio conquistato dalla compagna di team Sofia Ventrella seconda nei 400 misti con 6.30 e 6 e terza nei 200 d'orso con 2.52 e 5 medaglia di bronzo per Sara Simeone nella gara dei 100 rana completati con il crono di 1.33 3 stesso piazzamento centrato da Laura Falbo nei 400 misti coperti in 6.55 e 5 terzo posto per Eleonora Ronchetti nei 100 farfalla chiusi in 1.22 e 2 anche tra gli uomini la società del presidente Massimo Tucci ha ottenuto risultati di livello medaglia d'argento nei 200 d'orso per Antonio Pisaturo che ha fatto registrare il tempo di 2.43 terzo posto per Paolo Paolino impegnato nei 100 rana chiusi in 1.32 e 3 stesso piazzamento per Claudio Canulli nei 400 misti con 6.19 tra gli esordienti B vola Ilario Menna che fa le sue gare nei 200 stile libero chiusi in 2.37 ed i 200 d'orso coperti con il crono di 2.54 e 6 affermazione per Giulian Di Giacomo nei 100 rana con il tempo di 1.42 e 5 argento per Vittorio Cianciullo nei 200 d'orso con il riscontro cronometrico di 3.1 e 6 i risultati arrivati dunque rappresentano la prova del duro lavoro di preparazione che in un periodo così complesso rende doppiamente soddisfatti i tecnici Giorgio Petrella Luca Di Giacomo Paolo Di Lullo e Fabrizio Cinquina dichiarazioni confermate da Giorgio Petrella raggiunto proprio dai nostri microfoni diciamo che questo è un periodo particolare le società si stanno impegnando al massimo per farci nuotare le piscine giustamente sono degli impianti che portano tantissime spese quindi dobbiamo ringraziare anche i nostri presidenti io ringrazio il mio e ringrazio la società H2O che ci permette di continuare ad allenare questi ragazzi in questi tempi non è facile il periodo è difficile sì però dai alla fine vedere questi ragazzini questi bimbi tutti riuniti qui ci fanno ben sperare per un proseguo insomma diciamo più luminoso da allenatore Giorgio è importante sin dall'età prima età il nuoto per i bambini allora è importante sì innanzitutto per la loro sicurezza soprattutto per i bambini che abitano in zone dove c'è il mare ma anche per i bambini che vanno a fare le vacanze al mare è importante per la loro crescita per il loro sviluppo e poi comunque è una disciplina formativa che ti insomma ti forma anche per una vita futura voi come l'M2 siete sempre in movimento siete sempre sul pezzo come si dice programmi futuri per l'H2O? allora noi cerchiamo sì di essere sempre sul pezzo di essere presente a tutte le manifestazioni regionali e di essere presente anche le manifestazioni nazionali quindi diciamo che il movimento è forte e niente con l'impegno con la dedizione con la costanza degli allenamenti cercheremo di andare e di scalare sempre un gradino più in alto un'ottima cosa fra poco si dovrebbe diciamo tornare alla normalità sì si dovrebbe tornare alla normalità speriamo perché ci siamo anche un po' stufati di vedere questa situazione e niente noi come piscine riapriremo il primo di giugno le piscine coperte mentre il 15 di maggio le piscine scoperte e ci dobbiamo rimboccare le maniche perché in questi periodi ci sono state ci sono state grandi perdite ci dobbiamo dar da fare anche per recuperare il tempo perso e per recuperare insomma tutti i ragazzi che sono rimasti a casa senza fare attività fisica pallavolo femminile di serie C la nuova pallavolo campo basso ha ceduto al tie-break contro il Chieti nel post partita il commento del tecnico coach Raffaele Cesare è arrivata una sconfitta al tie-break sicuramente tanto l'ammarico visto che contro il Chieti si era partiti sicuramente con il piede giusto ma noi abbiamo impostato la partita in un certo modo poi il campo nel campo non siamo riusciti ad applicare quello che avevamo programmato che poi in effetti si è dimostrato si è rivelato giusto quello che avevamo programmato soltanto che in campo non siamo riusciti a concretizzare e quindi a mettere in pratica il nostro gioco solo verso la fine ma abbiamo tutto sommato giocato a corrente alternata e quindi questo non deve accadere noi siamo una squadra ci conosciamo bene che dobbiamo giocare bene in ricezione e difesa oggi questa situazione non è andata quindi quando non entrano questi due fondamentali si fa fatica anche a fare l'attacco stiamo lavorando in questo modo va detto comunque che ogni settimana mettiamo dentro delle ragazze giovani nuove oggi ha giocato titolare la Martinelli che è una ragazza del 2007 quindi in campo avevamo 2007 e indubbiamente questo ci lascia sperare per il futuro però per ora dobbiamo ruotare questa squadra e far cercare di incominciare a giocare di squadra di squadra e non di individualità quando arriveremo a questo e penso che questo sarà un traguardo per noi un obiettivo riusciremo a sviluppare il nostro gioco peccato soprattutto per il quarto set che è andato male sotto il profilo del risultato e del parziale forse si poteva fare di più sì ma si poteva fare di più anche dal primo set quindi che hanno vinto loro ripeto noi dobbiamo giocare sicuramente in una maniera diversa concepire che il nostro gioco si deve basare molto sulla difesa sulla ricezione difesa appoggio in maniera tale da permettere ai nostri attaccanti di avere più palle precise in maniera tale da sviluppare dei colpi d'attacco che ci garantiscono il punto purtroppo abbiamo arrancato su questo fondamentale e di conseguenza abbiamo fatto troppi errori campionato sicuramente condizionato anche dal momento e dalla pandemia qual è l'obiettivo? l'obiettivo è quello di comunque fare questo bel campionato dobbiamo tirare su delle nuove leve va detto anche che giochiamo comunque con due titolari in meno ma questo non significa nulla quelle che l'hanno sostituita l'hanno sostituito egregiamente e quindi dobbiamo continuare a lavorare tantissimo per migliorare per migliorare questo gruppo squadra bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti